Torniamo a parlare di un marchio molto apprezzato dagli appassionati di tecnologia abbiamo con noi HTC, con HTC U Ultra Questo oggetto che è nelle mie mani è l'ultimo prodotto di HTC di altissima gamma si chiama HTC U Ultra, l'abbiamo incontrato già a Barcellona al Mobile World Congress abbiamo avuto un primo incontro in quell'occasione ma adesso torniamo a vederlo un po' più da vicino ha fatto il suo esordio anche sul mercato italiano, costa 749 euro tra l'altro proprio in questi giorni negli Stati Uniti viene abbassato a 599 dollari abbassamento di prezzi invece che non si riflette anche sul nostro mercato vediamo da vicino come si comporta insomma vale 749 euro il nuovo prodotto di HTC? allora bisogna guardarlo da vicino, guardando soprattutto alcuni dettagli partirei da questa liquid surface, cioè questa soluzione di questa smaltatura io la definirei che ricopre il prodotto che lo trasforma in un oggetto con un colore cangiante molto molto affascinante sul retro una fotocamera vedete con una protuberanza non indifferente rispetto agli altri top di gamma in circolazione in questo periodo fotocamera posteriore tra l'altro da 12 megapixel quella che trovate sull'HTC U Ultra davanti invece diciamo un prodotto con un aspetto un po' più banale rispetto ad altre proposte che si trovano oggi sul mercato ad esempio quella di Samsung con il Galaxy S8 la caratteristica però fondamentale di questo oggetto viene da questo dettaglio quello del doppio display display che permette come vedete di aggiungere i propri contatti preferiti di attivare il comando della propria musica avere le previsioni del tempo oppure dei link alle proprie applicazioni preferite vedete poi vi danno le indicazioni sulle informazioni che avete ad esempio dal vostro calendario altro elemento di questo smartphone particolare in realtà non lo si vede direttamente insomma guardando il telefono è quello che c'è dentro la confezione perché c'è la soluzione di HTC U Sonic sono delle cuffie particolari ve le recupero in un secondo delle cuffie che sono in grado essenzialmente di leggere il nostro padiglione auricolare di cogliere essenzialmente la forma grazie ad un sistema che molto ovviamente funziona con gli ultrasuoni coglie la forma del vostro padiglione auricolare e adatta l'emissione dell'audio proprio alla forma degli stessi quindi vuol dire insomma che essenzialmente ognuno di noi ha una versione personalizzata del suono ecco schermo secondario vedete che potete scegliere di attivare lo schermo secondario quando lo schermo principale è acceso quando lo schermo principale è spento e anche di gestire le notifiche vedete che essenzialmente quando gli entrambi gli schermi sono spenti sollevando il telefono si attiva il piccolo schermo secondario e poi non solo è possibile anche toccarlo due volte proviamo facciamo immediatamente un tentativo vedete si tocca due volte per non riattivare l'intero schermo ma dovrebbe attivarsi solo lo schermino piccolo cosa che ecco vedete che sono riuscito finalmente a centrare lo schermino piccolo la caratteristica tra l'altro è che la leggibilità dello schermino però quando lo schermo principale è spento è ridotta vedete che cambiano anche le informazioni che compaiono sul display qua in alto quando voi essenzialmente avete il telefono acceso oppure il telefono spento vedete accendendo essenzialmente il display cambia il tipo di funzionalità vi faccio notare che a display bloccato avete i caratteristici link che HTC di solito mette a schermo bloccato mentre sulla parte inferiore avete il pulsante con il sensore delle impronte digitali che serve anche come tasto home questo è invece la possibilità di utilizzare il multitasking e da quest'altra parte invece il pulsante indietro l'interfaccia tutto sommato è molto simile a quello che già conosciamo che abbiamo visto su altri prodotti di HTC di recente a bordo c'è Android 7.0 questo vuol dire tra l'altro ecco c'è un altro dettaglio c'è la possibilità di gestire anche una doppia sim quindi potete scegliere essenzialmente come utilizzare le vostre schede la personalizzazione passa dall'utilizzo dei temi che sono disponibili ma insomma questa è una caratteristica che conosciamo di HTC ormai da tempo così come vedete c'è la possibilità di gestire la suoneria delle sim quindi cambiare a seconda della sim la suoneria così potete capire da quale numero sta arrivando la chiamata e poi vedete che potete utilizzare anche i colori diversi per i dialer a seconda di ciò che avete selezionato come tema vi faccio notare anche che tutto sommato insomma il telefono ha una buonissima ha una ottima funzionalità e velocità con 4 giga di ram a bordo adesso la pagina non è ancora stata caricata perfettamente 4 giga di ram a bordo uno Snapdragon 821 vedete che la reattività qualunque cosa venga fatta è comunque elevata qualunque sia la parte di software in cui volete entrare insomma essenzialmente avete un'ottima reattività per il software a bordo del telefono essenzialmente abbiamo HTC Sense che conosciamo molto bene che però è arricchito dal HTC Sense Companion che è la versione di HTC dell'intelligenza artificiale che vi permette essenzialmente di migliorare l'utilizzo del vostro telefono in quale modo onestamente non l'ho potuto ancora verificare perché ho usato il telefono pochissimo solo per pochi giorni e tra l'altro sto per restituirlo presente anche in questa versione di HTC e quindi nel nuovo HTC UOltre la pagina di BlinkFeed quindi la parte dove potete essenzialmente gestire i vostri contenuti e potete essenzialmente vedere oltre alle notizie che voi scegliete di leggere anche altre parti ad esempio vedete c'è la possibilità di avere un deal al giorno per quanto riguarda Amazon se avete l'applicazione installata allora abbiamo un display da 5,7 pollici con definizione QHD ovviamente anche un telefono che dal punto di vista del peso è piuttosto generoso con 170 grammi io vorrei farvi notare solo una cosa allora 5,7 pollici di diagonale allora sapete che è 5,8 invece il nuovo Galaxy S8 ecco guardate la differenza nelle dimensioni perché onestamente insomma tra il doppio display e la cornice c'è veramente un'abbondanza non indifferente vi aggancio poi anche il nuovo LG G6 anche in questo caso 5,7 pollici ma guardate quale differenza c'è tra i due telefoni per quanto riguarda la misura principale poi bisogna dire che HTC ha fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda lo spessore che tutto sommato è abbastanza contenuto parliamo di uno spessore di 8 mm che su un telefono di questa dimensione è comunque più che buona fotocamera allora andiamo a vedere un po' il funzionamento della fotocamera potete selezionare il tipo di utilizzo che ne volete fare nella parte superiore vedete che avete diverse modalità rallenti, hyperlapse, video la modalità pro, la modalità panoramica e poi la fotocamera Zoe che sapete essenzialmente è quella modalità con cui potete fare delle piccole GIF o GIF chiamatele come volete insomma con il vostro telefono qui in questo caso mi segnala che la modalità di messa a fuoco è bloccata mentre avevo la mano fino a un secondo fa proprio sul sensore uno dei comandi diretti sul display è quello per l'accensione o lo spegnimento dell'HDR e poi vedete qui avete tutte le altre possibilità di personalizzazione della fotocamera torno un attimo al browser per una ragione ben precisa perché voglio farvi sentire anche l'audio di questo telefono sapete che HTC ha sempre fatto della possibilità insomma di avere un audio molto forte il boom sound uno dei punti di forza dei suoi telefoni vediamo come è stato implementato l'audio in questo modello sempre insomma che il browser ma soprattutto lo streaming di Radio Number One non ci giochi qualche scherzo mentre aspettiamo lo streaming di Radio Number One vi faccio vedere dunque il telefono con un lato pulitissimo da questa parte invece abbiamo l'attacco USB Type-C e poi uno degli altoparlanti e poi ancora un lato invece con il pulsante di accensione che riconoscete per la zigrinatura e poi il controllo del volume ovvero il volume rocker sapete insomma che questo allora sentiamo l'audio adesso non troppo se no come al solito scatta la scura di YouTube vedete un buon livello audio ma una definizione dei bassi molto limitata rispetto al boom sound a cui eravamo abituati sui prodotti precedenti insomma qui siamo ad una definizione secondo me un po' più bassa lascio il browser per tornare per un secondo alla fotocamera perché la fotocamera anteriore è addirittura da 16 megapixel e questo credo che sia un dettaglio importante invece sappiamo che per quanto riguarda la fotocamera posteriore parliamo di 12 megapixel ma con dei pixel molto grandi gli famigerati ultra pixel 1,55 micron per i pixel e abbiamo tra l'altro un'apertura che arriva fino a 1,8 con uno stabilizzatore ottico dell'immagine con il puntatore laser con il riconoscimento della fase quindi face detection e con quindi anche un flash a due led quindi una dotazione veramente molto 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 completa un telefono enorme questo dal punto di vista delle dimensioni che ha una batteria di soli 3000 mAh questo un po' devo dire mi ha lasciato perplesso perché 3000 mAh non sono tantissimi per un display di questo genere e soprattutto per questo tipo di diciamo prodotto con un processore che insomma è bello potente allora questo è l'HTC Sense Companion non mi piace tantissimo graficamente piano piano comincia a dare informazioni che dovrebbero essere utili nella vita dell'utente vi saprò dire se tornerò ad utilizzare un po' più a lungo questo prodotto se riescono ad esserlo veramente oppure no insomma è un oggetto che a me non dispiace dal punto di vista estetico trovo che l'idea del doppio schermo sulla parte frontale sia tutto sommato gradevole e anche abbastanza utile vi devo dire che però insomma secondo me HTC U oltre a rispetto ai top di gamma principali di quest'anno in particolare rispetto a Galaxy S8 e LG G6 ha qualche cosa per cui nonostante l'aspetto estetico molto bello dato dal Liquid Surface sembra un prodotto un po' un po' datato insomma mi lascia un po' perplesso e a voi piace?